Buonasera a tutti e ben ritrovati negli studi di Una Mera al Giorno. Siamo pronti come sempre per raccontarvi delle storie, per darvi consigli in tema di benessere e salute e non solo. Oggi infatti voglio aprire questa nostra serata parlando di PMA, procreazione medicalmente assistita. Molti di voi si staranno domandando come mai, è un tema che abbiamo già trattato in precedenza con degli esperti ginecologi. Infatti oggi è un altro l'aspetto che vogliamo toccare. Infatti la procreazione medicalmente assistita dal 2017, quindi sono ormai quasi sei anni entrata nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Nonostante questo però i servizi che riguardano la PMA non sono erogati in convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale in modo equo in tutte le regioni d'Italia. In altre parole ci sono delle regioni in cui le persone, i cittadini non possono accedere alla PMA pagando semplicemente un ticket. Su questo fronte si è battuta già da diverso tempo l'associazione ERAOLUS. Allora per approfondire l'argomento abbiamo qui nei nostri studi il presidente dell'associazione ERAOLUS, il professore D'Amico. Benvenuto. Grazie, buonasera. Buonasera a lei. Allora per fare un po' ordine, professore, se è d'accordo nella questione dovremmo tornare un po' indietro e raccontare ciò che è accaduto in Sicilia perché la Sicilia è una regione dove nonostante come ho spiegato in introduzione a livello nazionale la PMA sia stata inserita nell'EA, questi servizi, queste prestazioni non vengono ancora erogate attraverso diciamo le parole semplici il pagamento di un ticket quindi o si va privatamente oppure il servizio non è garantito. Parliamo della Sicilia anche se non è un'unica regione perché rappresenta comunque un caso che può ben farci capire quello che sta accadendo. Allora ci vuole raccontare magari tornando indietro di qualche mese che cosa è accaduto? Sì, beh come sappiamo solitamente singoli pazienti, singoli cittadini possono scegliere di farsi curare anche in strutture diverse da quelle che si trovano nella propria regione, quindi possono come dire andare in altre regioni e quindi qui ricevere le cure a carico del servizio sanitario nazionale che sono loro necessarie. Questo è avvenuto e avviene tutt'oggi anche in tema di procreazione assistita per cui molte coppie siciliane vanno fuori regione per sottoporsi agli esami e alle prestazioni connesse alla PMA. Ovviamente questa mobilità al di fuori della propria regione avviene a condizione che la regione di provenienza del cittadino poi compensi il costo delle prestazioni alla regione ospitante, quindi questo comporta un flusso di denaro dalle regioni come la Sicilia, diciamo dalle regioni meridionali in cui purtroppo le strutture sanitarie sono più deficitarie verso quelle regioni che poi erogano in concreto le prestazioni, gli esami ai cittadini delle regioni meridionali. Questa si chiama in gergo la compensazione interregionale. Questa compensazione presuppone che sia stabilito un costo di queste prestazioni cioè che sia certo il costo delle singole prestazioni. Se questo costo non è certo, chiaramente poi sarà la singola regione ospitante a quantificare il costo del singolo esame e della singola prestazione. La vicenda siciliana si inserisce in quel contesto più ampio di cui lei poc'anzi dava conto, cioè la mancata entrata in vigore dell'EA, perché questa mancata entrata in vigore dell'EA è dipesa dalla mancata approvazione di un tariffario delle varie prestazioni. Quindi questo cosa ha comportato? Che manca la tariffa per le singole prestazioni, per i singoli esami. Mancando questa tariffa, il costo delle prestazioni che viene effettuato fuori regione viene stabilito dalle regioni ospitanti secondo dei parametri, dei criteri che poi le singole regioni del nord stabiliscono. Allora a maggio del 2022 cos'è accaduto? E' accaduto che l'assessore regionale siciliano alla salute ha bloccato questa mobilità fuori regione proprio perché mancava un tariffario comune. Quindi ha voluto bloccare questo flusso di denaro in tema di PMA che dalla Sicilia andava verso altre regioni. Questo blocco ha comportato che centinaia di coppie di giovani siciliani che si erano regate ad esempio in Lombardia o in Emilia Romagna o in Toscana per sottoporsi a questo tipo di prestazione non hanno più potuto beneficiare di queste prestazioni pagando il ticket che la sanità lombarda piuttosto che quella toscana piuttosto che quella dell'Emilia Romagna riusciva a garantire e di conseguenza si sono trovate costrette a rimanere in Sicilia con la difficoltà derivante dalla carenza di strutture che sono principalmente strutture private e ovviamente dai costi di queste prestazioni. Un passaggio in tutto questo forse a mio avviso andrebbe chiarito perché non è detto che tutti sappiano insomma che cosa sono i LEA, che cosa è un decreto tariffa. Allora ho detto introducendo il professor D'Amico che nel 2017 la PME, la procreazione medicalmente assistita è stata inserita nei livelli essenziali di assistenza, quindi quel minimo insomma che il sistema sanitario nazionale deve garantire ai cittadini come prestazioni sanitarie. È stato deciso quindi nel 2017 che anche la PME rientra tra quelle prestazioni minime essenziali, appunto livelli essenziali di assistenza che devono essere garantiti al cittadino. Per far sì che queste prestazioni potessero essere erogate in modo eco su tutto il territorio nazionale doveva essere emanato questo decreto tariffe che il professor D'Amico ha citato. Ebbene a distanza di sei anni possiamo dirlo perché ormai ci siamo al compimento del sesto anno questo decreto ancora non è stato emanato. Ma c'è un motivo di questo ritardo oppure è fisiologico, è normale che si attenda ben sei anni e forse anche oltre visto che ad oggi questo decreto tariffe non ce lo abbiamo? No, il motivo come puoi immaginare è un motivo essenzialmente economico cioè un motivo di reperimento delle risorse per finanziare questi livelli essenziali. Lei giustamente diceva prima che i LEA servono per garantire un uguale trattamento su tutto il territorio nazionale ed è proprio così. Tenga conto che questa formula LEA, cioè livelli essenziali di assistenza ma troviamo anche nel linguaggio comune anche l'EP, livelli essenziali delle prestazioni viene introdotta nella Costituzione nel 2001 con la famosa o famigerata riforma del titolo quinto della Costituzione e viene introdotta per assicurare un livello minimo appunto il livello essenziale di queste prestazioni su tutto il territorio nazionale in condizioni di eguaglianza. Dopodiché ovviamente le regioni più ricche che soprattutto le regioni che non sono sottoposte ai piani di rientro dal disavanzo sanitario, tenga conto che quasi tutte le regioni meridionali sono sottoposte a piani di rientro, quindi quasi tutte le regioni meridionali non possono erogare prestazioni diverse da quelle fissate nel minimo essenziale. Allora, dicevo, questi livelli essenziali devono garantire il minimo indispensabile a tutti ma se poi manca l'erogazione in concreto, il tariffario dal quale dipende l'erogazione del minimo essenziale, è chiaro che salta tutto il sistema. Perché se ho capito bene, chiariamo questo altro aspetto, da momento in cui non c'è il decreto tariffario, quindi non c'è un tariffario che possa dire questa prestazione deve corrispondere a questo importo, a questo ticket, la regione può decidere di non emanare proprio la prestazione, cioè nel caso per esempio della PMA, perché regioni come la Sicilia o altre regioni del sud non hanno provveduto, diciamo, da sé ad emanare questa prestazione così come magari si fa al nord? Certo, non hanno provveduto perché non hanno le risorse economiche, perché la questione del decreto tariffe è legata, lo dicevo prima, poi non ho completato il discorso, è legata alle risorse economiche da reperire. Qual è il punto? Il punto è che ovviamente le regioni tendono a sopravvalutare le tariffe, il costo delle prestazioni, in modo tale da avere dallo Stato e da pretendere dallo Stato maggiori risorse. Lo Stato da parte sua tende a sottovalutare, a sottostimare le tariffe in modo da dare minore risorse alla regione. In questa complessa trattativa che quindi ha ad oggetto le risorse economiche, quelli che ne vanno di mezzo sono i pazienti che chiaramente non possono ricevere queste prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Un altro punto dove io mi soffermerei sempre per chiarire meglio il discorso a chi ci sta guardando in questo momento da casa è il disavanzo sanitario. Come diceva, molte regioni del sud sono sottoposte a piani di rientro e anche la Sicilia in questa situazione. Io spenderei qualche parola per spiegare meglio che cosa significa. Significa un esaurimento delle risorse che sono destinate alla sanità regionale? Come potremmo spiegarlo? In parole, diciamo molto semplici. Sì, tenga conto che la spesa sanitaria costituisce all'incirca, ora io non ho dati aggiornati ma di un paio di anni fa, l'80% della spesa regionale. Cioè l'80% di quello che le regioni italiane, quindi non parliamo più solo della Sicilia, di quello che le regioni italiane spendono, lo spendono per la salute. Quindi è una massa di denaro consistente. Ovviamente ci sono regioni che in questi anni hanno accumulato debiti enormi, appunto le regioni meridionali. Quindi lo Stato a partire dagli anni 90 ha imposto loro un procedimento, una procedura di rientro da questo disavanzo della spesa sanitaria. Di conseguenza ha imposto alle regioni sottoposte a piani di rientro di erogare solo le prestazioni fondamentali e non di erogare altre prestazioni. Per cui se io sono cittadino italiano residente in Lombardia, potrò ricevere a carico del servizio sanitario regionale Lombardo delle prestazioni ulteriori rispetto a quelle dell'EA. Perché la mia regione non è sottoposta a un piano di rientro al disavanzo della spesa sanitaria, non è in debito, non ha un debito della spesa sanitaria e dunque posso ricevere queste prestazioni ulteriori. Se vivo in Sicilia o in Calabria o in altre regioni meridionali posso ricevere dal servizio sanitario regionale soltanto quel minimo essenziale. Poi però nel caso della PMA quel minimo essenziale per quel minimo essenziale non è ancora entrato in vigore. Quindi c'è un aggravamento su una situazione già grave. Perché pure se nell'EA dal 2017, come dicevamo, mancando questo decreto tariffe è come se fosse rimasto soltanto in teoria sulla carta ma non è poi nella realtà applicabile questo è insomma il discorso. Andando avanti, diciamo, lei ha spiegato che a maggio l'allora assessore alla sanità regionale della Sicilia ha bloccato questa migrazione sanitaria tra la Sicilia e le regioni del nord. Quindi non ha permesso che per la PMA un cittadino siciliano potesse andare in altra regione. Da quel momento però qualcosa è accaduto perché ci sono state delle pronunce della corte ed altro. Ci vuole raccontare insomma tutta l'estate come trascorsa per poi arrivare diciamo ai giorni nostri. Sì, allora chiariamo un punto. Io ho riferito della decisione dell'assessore regionale che ha bloccato e quindi ha ovviamente impedito alle coppie siciliane di ricevere queste prestazioni pagando il ticket al nord. Capisco però le ragioni del provvedimento dell'assessore. Attenzione, non è una mia una critica, è una considerazione che sicuramente ha inciso sulle coppie siciliane. Però capisco il suo atteggiamento perché a un certo punto mancando un tariffario ha voluto evitare che ci fossero anche come dire delle responsabilità contabili a carico del suo della regione Sicilia. Che cosa è accaduto subito dopo? Nel momento in cui l'assessore ha bloccato questa mobilità come dire il re si è scoperto nudo e quindi si è venuto fuori il problema che dicevo prima. Cioè è venuto fuori la gravità della mancata approvazione del decreto tariffa. Per cui noi come associazione di pazienti ci siamo attivati inviando una serie di lettere di PEC alla conferenza Stato-Regioni, al Ministero della Salute, alla conferenza delle regioni, per chiedere che venissero approvati immediatamente questi LEA. Non abbiamo avuto nessun riscontro, questo è bene chiarirlo. A settembre era stata portata all'ordine del giorno della conferenza Stato-Regioni l'approvazione di una prima bozza del decreto tariffa, però poi è stata stralciata dall'ordine del giorno, tutto questo pochi giorni prima delle elezioni del 25 settembre, elezioni nazionali e regionali in Sicilia. Qualche giorno prima delle elezioni regionali in Sicilia è stata stanziata una somma per contribuire ai costi delle prestazioni per queste coppie siciliane, proprio in ragione del provvedimento di blocco del maggio. E soprattutto poi a dicembre c'è stata una sentenza della Corte Costituzionale che ha riguardato non specificamente la PMA, ha riguardato le cosiddette malattie rare, perché veda, nei LEA non rientra solo le prestazioni connesse alla PMA, ma rientra una serie di prestazioni che riguardano ad esempio anche la diagnosi delle malattie rare. In quel caso, deciso dalla Corte Costituzionale, si trattava di un esame genetico denominato ESOMA, che appunto veniva erogato, è previsto nei nuovi LEA, ma appunto mancando il decreto tariffa non può essere erogato. Lì la vicenda riguardava un'altra regione, la regione Puglia se non erro, però in quell'occasione la Corte Costituzionale ha affermato che non vi è più alcuna ragione che possa giustificare, proprio queste sono le testuali parole della Corte, il ritardo nell'approvazione del decreto tariffa. Anche perché mi fa sorridere, mentre parlava io stavo sorridendo e spiego perché, perché lei giustamente ha detto i nuovi LEA, i nuovi LEA però risalgono al 2017, quindi poi tanto nuovi non sono, ma in realtà stiamo ancora aspettando che diventino operativi e come giustamente sottolineava lei, non è una situazione che riguarda solo le coppie e già quello insomma sarebbe un buon motivo, ma riguarda tanti pazienti, tante famiglie, perché sono molte le prestazioni che erano state inserite sei anni fa che ad oggi in molte regioni per i motivi insomma che stiamo spiegando, perché la situazione analoga anche per le altre patologie, per le altre prestazioni non possono essere erogate, quindi davvero speriamo che si sblocchi quanto prima la situazione. Lei ha fatto un elenco di alcuni passaggi e ha velocemente detto che intanto poi la Sicilia aveva erogato, stanziato dei fondi per le coppie della regione per accedere alla PMA. Fermiamoci anche su questo punto perché magari chi in questo momento ci sta ascoltando e può essere interessato potrà pensare di avere una chance, ma in realtà non è proprio così perché mi sembra che le risorse siano state stanziate e siano già esaurite, erano poche. Sì, le risorse erano poche, in sostanza in Sicilia cosa si è fatto a settembre? Proprio per venire incontro a queste esigenze delle coppie che non riuscivano se non con spese, con le proprie risorse economiche a ricevere queste prestazioni, sono state stanziate delle somme, ma non sotto forma di crediti ai pazienti, ma sotto forma di contributi ai centri pubblici e privati che erogano le prestazioni di PMA. In sostanza è stata data a ciascun centro, sia pubblico che privato, una somma calcolata sulla base delle prestazioni erogate nel 2021. Come dire, tu nel 2021 hai fornito un certo numero di cicli di trattamenti, allora ti diamo questa certa somma stimando che nel 2022, inizio del 2023, sostanzialmente farai la stessa mole di lavoro. Ovviamente sono cifre irrisorie, giusto per darvi un'idea, il centro che ha ricevuto più somme ne ha ricevuto 150 mila euro. Se lei considera che un ciclo di PMA omologa, quindi con gameti appartenenti ai componenti della stessa coppia, il costo di questo ciclo si aggira fra esami, prestazioni, transfer, pick up e via dicendo, si aggira poco meno di 3 mila euro, capisce che quando al centro che ne fa di più vengono date 150 mila euro, sono somme che vengono meno rapidamente, anche perché talvolta non basta un solo ciclo per le stesse coppie. Certo, quindi parliamo di poche centinaia di coppie che sono state aiutate e poi addirittura forse c'era bisogno anche di un contributo da parte della coppia stessa per poter accedere la procreazione e mi sembra, se non erro, che fosse un contributo comunque che aggirava intorno al migliaio di euro, quindi comunque è una cifra importante per chi ha un lavoro diciamo con uno stipendio medio, questa cifra corrisponde a volte ad un intero mese di lavoro e a volte anche più. L'associazione Araolus intanto come si sta muovendo per cercare di mobilitare, di smuovere la situazione? Noi abbiamo nuovamente appunto attivato un'interlocuzione, stiamo cercando di attivare un'interlocuzione con il Ministero della Salute, con il nuovo Ministro, con la conferenza Stato-Regione subito dopo la sentenza della Corte Costituzionale di cui diceva Pocanzi abbiamo inviato delle nuove lettere al Ministero sia della Salute che della Natalità, della Genitorialità e via dicendo, sia alla conferenza, sia al nuovo Assessore regionale per sottoporre loro la situazione di queste coppie. Al contempo ci stiamo anche cercando di attivare con la classe politica, perché il nostro obiettivo è portare questo tema al centro dell'agenda politica e portarlo al centro dell'agenda politica non per un mero capriccio, ma appunto per stimolare tutti gli attori istituzionali, quindi gli attori politici in primis, ma non solo gli attori politici, a prendere atto che se non si approvano questi LEA, se non si approva questo decreto tariff, non ha senso parlare di sanità pubblica. Guardi, mi consenta una piccola divagazione, in questi giorni come sappiamo è stata approvata una bozza di modifica, di legge sulla cosiddetta autonomia differenziata delle regioni. Ecco, a parlare di autonomia differenziata, quando noi oggi a febbraio 2023 ci chiediamo per quale ragione non siano stati ancora finanziati ILEA del 2017 mi sembra un paradosso. Cioè è assolutamente fuori contesto discutere di un'autonomia differenziata. C'è già, anzi bisognerebbe parlare di un'autonomia che tenda a rendere più uguali le prestazioni erogate nelle regioni, non tanto le regioni ma le prestazioni sì. Assolutamente, poi non c'è tempo da perdere perché, ripeto, noi stiamo parlando di procreazione medicalmente assistita, ma sono davvero tante altre le situazioni che rientrano in questo contesto. Nella fattispecie, parlando di fecondazione, non c'è tempo da perdere, dicevo perché? Perché anche sei mesi, dodici, e questi sono già trascorsi tra l'altro per le coppie che abitano in Sicilia, possono significare non poter più tentare un ciclo di fecondazione assistita. Perché quando, ad esempio, c'è un problema che riguarda la donna e quindi la riserva ovarica, questa si esaurisce e si esaurisce anche piuttosto velocemente quando c'è un problema di infertilità. Quindi davvero aspettare un anno per una donna, per una coppia può significare non poter proprio più tentare di realizzare il sogno di diventare genitore. Intanto però mi diceva che c'è una novità abbastanza recente che riguarda proprio la classe politica perché è stata approvata, è stata presentata un'interrogazione parlamentare proprio in materia sulla questione. Sì, è stata presentata nei giorni scorsi un'interrogazione parlamentare alla Camera dei Deputati in cui si chiede al Ministro della Salute di illustrare le ragioni di questo ritardo. Io vorrei un attimo tornare su quello che le diceva Pocanzi a proposito dei tempi perché tra le altre cose non ci dimentichiamo che sono previsti un limite di età per la donna per potersi sottoporre a queste prestazioni. Limite di età che peraltro non è uguale fra tutte le regioni perché ciascuna regione stabilisce un limite di età diverso che va dai 43 ai 46 anni, più o meno questa è la media del limite di età. Quindi se lei considera che noi per due anni molte coppie non hanno potuto ricevere alcune prestazioni, due anni del Covid. E sono due anni che quando noi abbiamo, come dire, una cartella da pagare, un ricorso da depositare, beh interviene il legislatore e ci dice vabbè te li proroghiamo per altri due anni. Ma nel caso invece di una esigenza legata a una, come dire, situazione fisica non possiamo dire al corpo umano fermati per due anni e poi ti diamo una chance ulteriore. vero è che si è intervenuti, alcune regioni sono intervenute nel consentire una proroga del limite temporale, proprio in ragione del blocco che c'è stato in occasione del Covid. Ma al di là della proroga legislativa, normativa, eccetera, eccetera. La biologia va avanti. Esatto. Quindi la donna con i due anni in più ce l'ha e quindi le sue possibilità sicuramente carano. Poi tra l'altro, agganciandomi a quello che diceva il professor D'Amico su la pandemia, lo dicono i dati, effettivamente durante la pandemia c'è stato un calo dei servizi che riguardano la PMA e di conseguenza anche un calo della natalità, anche proprio perché sono state erogate meno prestazioni di PMA, perché sappiamo che comunque sono sempre di più le coppie che ricorrono a questa tecnica, sempre di più le coppie infertili per un fattore di età, ma anche per tanti altri fattori che insomma non stiamo qui questa sera a indagare, assondare perché insomma riguardano poi altri aspetti della salute. Come si potrebbe risolvere professor D'Amico tutta questa questione? Velocemente, secondo lei, cioè approvare un decreto tariffa è davvero così complicato da giustificare un'attesa lunga sei anni? Oppure è una cosa che potrebbe essere risolta nel giro di qualche mese? Guardi, il problema principalmente, come le dicevo, è delle risorse economiche. Qui bisognerebbe, proprio per l'incidenza che la spesa sanitaria ha sul complesso della spesa pubblica, bisognerebbe davvero immaginare un piano organico sulla salute. L'occasione oggi è più unica che rara, ed è l'occasione dei fondi del PNRR, che può dare l'opportunità di creare nuove strutture, di creare strutture pubbliche, di creare strutture anche di attivare delle convenzioni col privato, laddove questo garantisca le condizioni richieste dalla legge per l'autorizzazione, per l'accreditamento dei centri privati. Se passa questa occasione, difficilmente si potrà avere una congiuntura, come dire, economica così favorevole. Quindi io credo che occorra in questo momento premere sull'acceleratore. Tra l'altro poi sappiamo che dal PNRR dovrebbero derivare e nascere grazie a questi fondi, per esempio, delle case della salute, degli ospedali di comunità. Ecco, sarebbe auspicabile, proprio perché la PM è stata inserita nell'EA, pensare che ci possano essere degli specialisti anche in questi luoghi che possano eventualmente proprio erogare questi servizi o quantomeno indirizzare le coppie poi verso i centri specialistici, effettuare magari un primo screening, un primo colloquio. Quindi effettivamente potrebbe essere una grande occasione da non perdere. Allora che cosa ci possiamo davvero auspicare così per concludere questa nostra chiacchierata che speriamo possa essere stata ascoltata da chi dovere portare finalmente ad una soluzione? Io credo che se davvero noi vogliamo, come dire, immaginare un nostro futuro per la società al di là degli slogan di una parte piuttosto che dell'altra, dobbiamo appunto pensare a, come dire, le istituzioni devono pensare soprattutto a vedere nella sanità il problema principale di questo Paese. Il problema principale che crea diseguaglianze, che crea disfunzioni, che crea sperperi di risorse pubbliche, perché non pensiamo che è tutto virtuoso e che la sanità funzioni bene solo laddove vengano erogate bene le prestazioni. Anche lì ci sono delle carenze, ci sono delle disfunzioni. Lei diceva dei centri di prossimità. Quella sarebbe veramente un'ottima idea, perché ti consentirebbe di assicurare, certo, non le prestazioni del PMA, ma un primo monitoraggio, penso alla famosa vicenda della visita di leva, che un tempo era la prima occasione per gli uomini per rilevare eventuali problemi di salute riproduttiva. Quindi io credo che questo sia lo scenario e da questo punto di vista benvengano appunto le occasioni di confronto, di incontro, di informazione come questa di oggi. Allora speriamo insomma che le informazioni che abbiamo dato questa sera siano state utili ai nostri degli spettatori e contemporaneamente che qualcuno insomma delle istituzioni e di chi può davvero far cambiare la situazione insomma ci abbia ascoltato. Ringrazio il professore D'Amico per essere stato con noi questa sera. Grazie a lei, buonasera. Una mela al giorno, torna tra poco dopo una breve pausa pubblicitaria. Vi aspetto. Grazie a tutti.